Il 23 novembre 2016, l'Università La Sapienza e il Policlinico Umberto I di Roma hanno celebrato i 40 anni dalla scomparsa del professor Pietro Valdoni, il più grande chirurgo del Novecento. Per l'occasione è stato presentato in anteprima un film documentario e un libro che ripercorrono le principali tappe della vita professionale del famoso medico. Dunque dopo aver visto il filmato devo dire che è un bel contributo a ricordare questo grande italiano che è stato Pietro Valdoni, un uomo nella storia d'Italia, la storia del ventesimo secolo, per tutto quello che ha fatto nella scienza, in medicina ma anche per quello che ha insegnato come grande maestro di vita praticamente, specialmente ai giovani. Alla fine dopo la proiezione è stato giustamente detto che bisogna imparare a vivere credendo in quello che si fa e non pensando soltanto ai propri interessi. A me siamo molto onorati e felici, mio padre l'avrebbe adorato, gli piaceva tutto quello che lo osannava e quindi credo che sarebbe molto molto contento e io sono molto felice, anche lui che sono sicuro che come dico il regista che ha fatto il film, gli ho detto non potevo far di meglio ecco. Collaborato per diverso tempo con l'ufficio stampa dell'Umberto I e attraverso dei convegni dei congressi come l'inaugurazione della sala convegni Pietro Valdoni, ho scoperto questo personaggio, mi sono appassionato e ho deciso di scoprire di più e documentandomi ho scoperto che c'era poco e niente. Momentaneamente la visione di questo film non sarà di dominio pubblico perché stiamo concorrendo al David di Donatello 2017, quindi non possiamo diffonderlo a livello commerciale, quindi dovremmo aspettare la conclusione di questo festival per poterlo diffondere. Le difficoltà sono state numerose perché da emergente nel campo da studente di cinematografia non avevamo a disposizione tutti i mezzi tecnici per la realizzazione di questo film, quindi abbiamo dovuto adoperarci con il nostro ingegno e quindi realizzare i mezzi tecnici che ci hanno permesso di svilupparlo con un linguaggio cinematografico che avevamo deciso di applicare a questo film. Oltre ad un film documentario ideato con Emilio Mantova ho avuto anche l'idea di coinvolgerlo in un libro. Fra le due arti ci sono tante connessioni ma una cosa è la scrittura e un'altra cosa è l'audiovisivo. Ogni dei due mezzi ha delle importanti connotazioni culturali. Il libro è fatto in maniera tradizionale però comprende la storia della professione e della vita del professor Valdoni, contiene molti documenti d'epoca, i giornali d'epoca in cui raccontavano un po' le sue imprese da chirurgo eccellente e da virtuoso del bisturi e poi soprattutto contiene il libro le interviste ai suoi allievi diretti che questa sera parteciperanno alla serata in onore del professor Valdoni. Il presidente Letta ha conosciuto Valdoni quindi quando io gli ho proposto di moderare e presentare questa seduta è stato entusiasta e quindi sicuramente ci dirà delle cose molto importanti e molto belle sul professore. Grazie.